La Iesina sfiora il colpaccio contro il Brescia, campione d'Italia. La squadra del tecnico Domenico Giuliano conferma di essere avversario tosto nonostante lo zero in classifica. Lenzini ci prova per prima, Guidi blocca, poi Sabattino, conclusione forte che il portiere Marchigiano blocca in due tempi. Ci prova anche Manieri dalla distanza, conclusione sulle fondo. Il gol del Brescia arriva al quindicesimo, una perla di Tarenzi che controlla di petto, poi gira in semi rovesciata e batte Guidi che non può davvero nulla. Girelli ha un paio di buone occasioni per il raddoppio ma manca la mira. La rete subita sembra caricare la Iesina, Monterubiano ci prova con un gran tiro da fuori, Cesar non si fa sorprendere. E' proprio Valeria Monterubiano a siglare la rete del pari per la Iesina al termine di una bella azione corale iniziata proprio dalla numero 21 che va a ricevere il pallone in aria dopo la bella combinazione tra Polli e Vagnini. All'intervallo è 1-1. Nella ripresa le bianco-rosse entrano con l'atteggiamento giusto, Monterubiano ingaggia un duello con Manieri. La numero 21 della Iesina si defila ma riesce comunque a calciare impegnando Cesar. La Iesina ribalta il risultato con Valeria Monterubiano che di testa gira in fondo alla rete il cross di Polli, esplode il Carotti. Al 63esimo Tarenzi viene atterrato in area di rigore, l'arbitro concede il penalty. Sul dischetto si presenta Cristiana Girelli che non sbaglia e riporta il risultato in parità. Il Brescia spinge, Guidi si conferma in ottima forma e salva la sua porta. All'ottantesimo il gol che decide la sfida per il Brescia arriva al termine di un'azione incredibile. Sabatino mette un bel pallone dal fondo. La difesa libera, Cernoia rimette in area di testa la palla che Tarenzi gira in porta. Guidi riesce a respingere ma non a bloccare. Sulla palla ancora Tarenzi che centra la traversa. La sfera si impenna e Cristiana Girelli firma di testa la doppietta e la rete da tre punti. Nel finale Sabatino potrebbe allungare. Guidi ancora straordinario a ribattere la conclusione. Fuselli dal fondo, velo di Sabatino. Bonassia prova a piazzarla ma apre troppo e la sfera va sul fondo. Guidi tiene ancora la Iesina in partita con un'altra parata incredibile su Tarenzi. Nell'assalto finale Monte Rubiano impegna Cesar alla parata in angolo. Sul corner la palla finisce a catena che all'occasione del pari la numero 20 spara alto. Vince il Brescia in rimonta contro una Iesina ancora una volta sfortunatissima. Sono contento che comunque hanno reagito alla sconfitta di Luserna e hanno dimostrato che comunque giocando a calcio contro una grande squadra che non ha bisogno sicuramente di presentazione e per quello penso metterci questa grinta contro le squadre di alta classifica, queste che comunque fanno un cambio da sé, queste 3-4, dispiace molto di più perché non è stato messo lì a Luserna. Nonostante sia una squadra che ha 0 punti in classifica, la Iesina a me è piaciuta, è piaciuta soprattutto per, al di là dell'organizzazione, tattica, molto messa bene in campo ma della determinazione, l'aggressività, il coraggio. Sicuramente lo sapevamo già che saremmo andati incontro a una partita difficile nel senso che noi veniamo da una partita di Champions e quindi abbiamo speso tante energie e oggi abbiamo trovato una squadra chiusa, compatta ed era veloce nel contropiede e sicuramente noi abbiamo partito più che fisicamente e mentalmente la stanchezza.